ragazzi il nuovissimo video delle missioni per sbloccare il deltaplano gratuito dei pirati dei caraibi consegna il vaso di terra jack dopo aver preso il vaso di terra che si trova qua dove c'è il treno dal lato del culo del treno si va qui a tutto a destra da jack sul nuovo npc prima però ricordiamoci un bel like per supportare il canale si va dal jack si parla e si consegna la appunto il vaso e si sblocca l'ammissione poi ovviamente basta è finita bisogna aspettare due giorni per la prossima mission al sapere insomma ci prendiamo tutto quello che ci aspetta un bel doblone d'oro maledetto mi raccomando per supportare il canale per il ceratore sempre attivo e se lo usate raga taggatemi a ultima roba state attenti perché ovviamente i primi giorni è pieno di gente che vuole solo killarvi non farvi fare la missione quindi io vi fate aiutare o magari non ci andate proprio subito 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 uscirò